Le ho detto che non è possibile entrare, ha capito? Non mi interessano i motivi, non mi interessano i motivi, io ho ordini precisi. Fuori! Le aspetta fuori perché gli artisti alla fine passano di qua e lei può parlare con chi vuole, ha capito? E soprattutto la nazionale, non secondo me sa, qui siamo fra persone civili. E se l'ho detto che non si entra, di qua lei non entra in sicuro, capito? Fuori! Se dovessimo lasciar passare tutti gli scocciatori come lei, ci sarebbero più gente su un palcoscenico che neanche in sala. Fuori! Ma lo sai in trent'anni quanta gente ha tentato sto trucchetto? Ma con me c'è mai riuscito nessuno, ha capito? Fuori! Ma cosa fare adesso? È diventato matto, mi viene in teatro con la bagno, è accesa. La bagno deve essere spenta se può me lo portare, ha capito? Il suo mestiere è quello di spegnere. La loro lo speggano! Pronto? Chi? No! C'è spi! C'è spi! Sì!